Si tratta di un lavoro lungo, documentaristico, quello svolto da Antonio Mucciaccio e che è affidato alle pagine del suo ultimo libro. L'autore ha documentato ed esplorato ogni aspetto della vita e della famiglia dello scrittore che ha nobilitato la terra molisana Francesco Iovine, facendo cantare le voci dei contadini. Io in questo libro, che è un po' il frutto della pandemia, perché all'inizio doveva essere solamente un saggio storico di qualche centinaio di pagine, in cui storicamente con documenti ho dimostrato che era falsa la diceria che le terre del sacramento fossero a Isernia. Questa diceria, per la verità, è stata diffusa ad arte da Francesco Iovine e dal suo amico e collega, il professore della normale di Pisa, Luigi Russo, perché quando Iovine ha scritto le terre del sacramento, lui queste terre le conosceva molto bene e sapeva chi erano stati gli usurpatori e coloro i quali avevano sottratto le terre ai contadini con l'usura e con l'imbroglio. Uno scrittore, Francesco Iovine, ancora poco conosciuto nelle scuole molisane e in questa direzione che l'amministrazione di Guardia Alfiera, da un po' sta organizzando varie iniziative per far apprezzare lo scrittore alle nuove generazioni. Noi come amministrazione comunale ci stiamo muovendo per far conoscere la figura di Iovine, ma non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. Adesso con piccoli gesti, a breve installeremo al bivio di Guardia Alfiera proprio una dicitura dove starà scritta Benvenuti a Guardia Alfiera, il paese di Francesco Iovine. Abbiamo installato per il corso di Guardia Alfiera una panchina dedicata a Francesco Iovine. Adesso ci stiamo muovendo nel creare, che abbiamo già creato, il parco letterario Francesco Iovine insieme con Agnone. Cercheremo di far conoscere sempre di più anche tutta la parte letteraria insieme con i nostri collaboratori, la figura di Iovine a livello regionale, ma ci auguriamo che venga riscoperto nelle scuole.